Ecco l'intervento dell'arbitro. Hanno pagato veramente caro la trampa a fuoco dimostrata in vada di Pezzina. Poi bravissimi gli avversari nel sfruttare l'occasione. Ecco qui il replay del gol della Roma. Bravo, è stato bravo a liberarsi dal proprio marcatore a battere il pochiere. Inizione perfetta, chirurgica, che ha lasciato di stucco il pochiere. È un gol fantastico anche se certamente la barriera non era piazzata benissimo. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione splendida. Grazie a tutti.